Il Consiglio Comunale, soproposta del sindaco Alessandro Ghinelli, ha adottato con 26 voti favorevoli e due astenuti una variante al regolamento urbanistico per la modifica delle destinazioni d'uso dello stadio Città di Arezzo. Cade la destinazione finora esclusiva di impianto sportivo scoperto a vantaggio di impianto sportivo coperto. La struttura, dice Ghinelli, potrà così incrementare le sue funzioni, visto che le destinazioni ammesse saranno attività commerciali, servizi culturali, sportivi e ricreativi. La variante non prevede nuove opere di urbanizzazione o nuovo consumo di suolo, ma favorisce un contesto di servizi aggiuntivi che potrà essere di supporto economico alla destinazione sportiva principale. A nessuno sfugge, dice l'assessore Lucia Tanti, la necessità di dare attenzione alle tante realtà dilettantistiche del territorio presenti nell'aria, ma partendo da questa delibera permettiamo allo sport alla prima squadra della città di uscire da una periferia ed entrare nel salotto buono degli interessi prioritari. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha parlato anche del futuro dello stadio. È previsto che il comune proprietario mantenga la manutenzione straordinaria e i relativi oneri e il soggetto gestore l'ordinaria. Questo apre il tema del futuro dello stadio. Gli investimenti sull'impianto saranno inevitabilmente legati alla squadra e suoi risultati alla categoria disputata. L'amministrazione, aggiunge Ghinelli, si impegna a mantenere decoroso l'impianto a prescindere dalla categoria, ma per ora la maratona resta così com'è. Se l'Arezzo dovesse viaggiare verso altri lidi, ci porremo il tema circa l'assetto che riguarda la capienza complessiva dello stadio.